Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie per il tuo supporto. Una notizia devastante ha colpito il mondo della TV. A soli 20 anni è morto in un tragico incidente stradale. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei siti e dei giornali, lasciando il pubblico giovanissimo scioccato. Sean Geringer, recentemente diventato padre per la seconda volta, ha perso la vita mentre era alla guida del suo veicolo, simile a un quad. La madre, Mary, ha confermato questa tragica notizia al Sun. Sean Geringer era famoso per essere stato uno dei protagonisti del programma televisivo 16 anni e incinta, anche nella versione italiana. Insieme alla fidanzata Selena Gutierrez, ha raccontato la loro esperienza di genitorialità precoce durante la sesta stagione dello show. Nonostante le difficoltà e le accese discussioni, la coppia è riuscita a superare molte sfide, incluso un presunto tradimento di cui Sean fu accusato. Sean e Selena hanno dato alla luce due figlie, compresa la recente arrivata, Esm, come riportato anche a Team Mom circa un anno fa. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la coppia sembrava essere in crisi negli ultimi tempi. Resta una profonda tristezza e sgomento per la perdita di una vita così giovane, tragicamente interrotta.